Oggi voglio farti capire perché per superare un esame scritto è importantissimo ripetere a voce alta. Sembra un paradosso ma in realtà la ripetizione, la spiegazione ci aiuta per qualunque tipo di esame, sia questo orale, qui è un po' più ovvio, ma anche scritto e parliamo anche degli esami a crocette. Prima di spiegarti questo però voglio ricordarti che puoi richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari. Puoi ricevere tutti i contenuti del corso direttamente nella tua mail che puoi inserire dal link che trovi qui sotto e così avrai a disposizione spiegazioni pratiche, teoriche, contenuti scaricabili, stampabili e tanto altro. Tornando invece al video di oggi vediamo anzitutto la sigla e poi ti faccio capire perché per superare un esame scritto devi ripetere a voce alta. Vediamo quindi insieme perché dovresti ripetere a voce alta anche se stai studiando per un esame scritto. Voglio farti capire esattamente cosa succede nella nostra mente quando ripetiamo e dov'è un errore proprio concettuale che accomuna tantissimi studenti. Partiamo proprio dal primo elemento cioè il materiale che dobbiamo studiare. Con tutta una serie di tecniche e di strategie di apprendimento le informazioni vengono elaborate all'interno della nostra mente. Quando queste vengono elaborate nel modo corretto con una tecnica giusta, tieni in mente questo aspetto, poi possono essere memorizzate e tra virgolette conservate all'interno della nostra mente, cioè rimangono in memoria. Dopodiché quando dobbiamo sostenere un esame le informazioni possono essere o spiegate a voce alta, quindi in modo di rispondere alle domande del docente, quindi spiegazione orale, oppure possiamo scrivere la risposta. Ovviamente la risposta può essere sia aperta nei test che prevedono domande e risposta aperte, ma può esserci anche una risposta chiusa, quindi il classico caso dei test a crocette. Quindi questo è il ragionamento in generale. Molti pensano che la ripetizione orale, quindi a voce alta, non sia necessaria, perché quello serve solo e soltanto quando si prevede un esame in cui la spiegazione deve altrettanto essere orale. In realtà questo è l'errore di base, quindi proprio un errore concettuale, perché la spiegazione orale è solo una parte dei modi in cui andiamo a spiegare le informazioni. Ovviamente, come abbiamo detto prima, c'è l'aspetto di riportare la risposta per iscritto. L'aspetto importante della ripetizione è che questa non avviene alla fine di questa catena, ma avviene durante l'elaborazione delle informazioni e la ripetizione a voce alta è uno step, una parte, un passo essenziale per la memorizzazione delle informazioni. In sostanza, se non ripetiamo nel modo corretto, non ripetiamo abbastanza, le informazioni non possono essere immagazzinate per quanto sarebbe necessario. E voglio farti un esempio pratico per farti capire esattamente cosa avviene e per giustificare ancora di più l'argomento del video di oggi. C'è la necessità di ripetere a voce alta, anche se l'esame è scritto e quindi devi riportare una risposta per iscritto sia questa aperta o chiusa. Se prendiamo questo, che è una definizione molto 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 semplice, e manderò l'esempio proprio a livello elementare, secondo una definizione di linguistica questo è lo studio scientifico del linguaggio e delle lingue. Questa definizione può avere alcuni vantaggi e numerosi svantaggi. Se dovesse rispondere a questa domanda, ho ipotizzato questa in un test a crocette, la linguistica, lo studio scientifico di linguaggio, una sola lingua, tutte le lingue, il linguaggio e le lingue. Se non ho ripetuto le informazioni, non ho quell'ordine mentale che mi permette di evitare la confusione che inevitabilmente emerge quando mi trovo davanti quattro opzioni, potrebbero anche essere di più, in cui spesso torna la stessa parola, lo stesso termine. Per esempio in questo caso vediamo più volte linguaggio, lingua, lingue, linguaggio e lingue. Qual è la risposta giusta? Ecco, se non ripeto le informazioni a voce alta, perdo l'opportunità di avere un ordine mentale, tale per cui posso tranquillamente ricordare l'informazione e soprattutto la risposta giusta, non perché tiro ad indovinare, ma perché la ricordo anche solo per ragionamento, se non la ricordo immediatamente. Quindi, cosa dobbiamo considerare in questo caso? La ripetizione a voce alta. Se io avessi detto fin da prima che la linguistica e la definizione di linguistica è questa, è lo studio scientifico non di un solo elemento, ecco già solo questo mi fa escludere le prime tre risposte, o comunque sicuramente la prima e la seconda. Infatti aggiungo, ed essa è lo studio appunto del linguaggio e delle lingue. Questa ripetizione a voce alta mi permette, anche solo ripetendo la definizione, di farmi tornare in mente le informazioni, perché le ho elaborate, sono memorizzate e di conseguenza posso scegliere l'ultima risposta, la risposta D, quindi come risposta giusta, proprio perché ho studiato in principio la definizione. Se manca la ripetizione orale, manca l'elaborazione dell'informazione e quindi non posso ricordarla, di conseguenza ho spiegazione orale per un esame orale, ho spiegazione per iscritto con un esame iscritto, sia questa risposta aperto chiusa. In nessuno di questi casi posso ricordare con certezza le risposte e poi mi trovo a dover tirare a rindovinare. Quindi questo era quello che ti volevo proporre nel video di oggi. Se hai dubbi, domande, vuoi chiedermi qualcosa, non farti problemi né a scrivere nella sezione dei commenti né tantomeno con tutti i link che trovi nella descrizione. Io ti rinnovo l'invito a richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari e anche in merito a questo trovi il link proprio in descrizione. A questo punto ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato e ti aspetto con molto piacere nel video che uscirà domani.